io vabbè che entusiasmo ciao a tutti siamo l'italia rampage team ciao siamo qui per la sesta puntata di borderland e in realtà in realtà l'avevamo già cominciata avevamo già fatto due minuti ma Fabio c'è salto scusa Fabio Simo è scomparso dal TS no non è che io sono scomparso è che la nonna è venuta a rompere le balle vabbè in pratica è super eroe delle nonnette quando hanno la nonnetta bisogna di aiuto no è che lei la tecnologia non va d'accordo cosa pretendi? e beh c'ha 90 no ah madonna l'ho vista tua nonna non è che è così vecchia vabbè mi ha fatto un pensierino cosa? hai anche fatto un pensierino Fabio dai che schifo va bene va bene aspetta dove si è? perché hai sparito? ma è te che sbagli no stavo uccidendo un po' ma no la droga bisogna veramente darla al fattone ho sbagliato stavo dando a droga al fattone c'è un po' che mi sta sparando c'è un po' che mi sta sparando wow yeah fuck yeah ok muori 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 va bene mamma mia mi va bene è forte questo fucile non ha un cazzo di colpi no scappa e tu da dove sei saltato fuori? muori tu 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 ehi fattone oh che fai no si un cecchino per te Simo e io sono salito a livello quindi arrivo mi prendo un fucile bello eccolo qui dov'è? che figo sto fucile è pure elettrico yeah e mi potenzio pure ragazzi oh ehi dove hai fuggito per me? ce l'hai addosso piccio ce l'hai già nell'inventario ragazzo perché io parlo vita? ok ah ce l'ho nell'inventario vediamo si io mi potenzio intanto la verità chi è che sta sparando così? wow io stavo testando usci la pompa aumenta il danno con i proiettili con ogni tipo di arma vai 180 decreti con 5% dimensione ok faccio la vedetta intanto ah vabbè la missione è vero me l'ho dimenticato abbiamo solo quella ora solo quella? si possiamo farla perché è vero è medio? è normale andiamo allora faremo il culo munizioni per me munizioni per me perfetto andiamo sai le scritte sopra? sopra? sembrano tipo quelle che appaiono sopra sembrano tipo quelle di facebook ecco tipo spunk ha aperto la cassa ma non me ne frega un cazzo è vero è vero ho proprio detto sinceramente si è per vedere se stai ladrando ma la gente ah ok andiamo dai non ho paura di nessuno a questo punto cassa è forte 3 secondi dopo spacco ha raccolto una granata su farmville 3 secondi dopo no che schifo 3 secondi dopo oh la madonna oh sono morto sono morto faccia sono morto è una cassa sono morto Simo cosa apri le casse vieni a salvarmi arrivo ci sono qui dei pedofili che mi vogliono stuprare ok muori piccolo mercenario arrivo Simo arrivo tranquillo mi fa tagare questo fucile ma è ancora di questo tipo muori non posso salvarti ora si ragazzi ho poca vita sono ok sono ok sono ok un sacco di roba soldi e un'arma per la sirena l'unico personaggio che non abbiamo yeah fantastico Fabio Fabio la tua vinta l'amor di dio vuole partecipare anche lei dov'è il problema che non dice niente di sensato cassa per armi ah no ah abbiamo recuperato il modulo distrazione digistract c'è un bottuccino no non posso me lo ricordavo più forte chissà perché c'è una cassa c'è una cassa d'armi qua dove? no no dove 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 no no non c'è Simo ha aperto una cassa ho raccolto 16 d'oro cioè dollari oh mio dio wow per un attimo mi sembrava incastrato vabbè uccideteli tutti vabbè ok quanta violenza perché cioè no adesso mi spiegate perché ci sono delle munizioni nel cesso scusa la domanda è perché non dovrebbero scusa chi è che non caga munizioni ai giorni d'oggi dai dai cecchino siamo nel pianeta dei tamarri quindi è vero cosa che devo fare? guidato? devi guidare una macchina e fare il salto della della fede a bordo andiamo già guido io guido me me cosa? è una troia si infatti già non puoi salire tu vero? mi seguo vabbè si come si fa accelerare? perché mi ha spottato un nemico? posso accelerare solo un veicolo? wow ma da quando no? ah no due due aspetta come si accelera sai che non mi ricordo fa cagare quest'arma nemici stai fermo stai investendo la gente ragazzi come faccio accelerare? stai fermo mi sparo io mamma mia sei odioso cazzo mamma per esempio oh mio dio oh che cazzo hai fatto? ma che ti sa l'acceleratore lì eh come come cazzo si fa? sono incastrato ragazzi come sei incastrato? sono incastrato oh mio dio lol allora ce l'ho fatta ce l'ho fatta come si fa l'acceleratore? fa come mi spondi aspetta 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 un attimo aspetta un attimo la prossima volta che lo rifai avvertimi ti riasso un po' di roba no acceleratore la F no mi sta sparando da solo perché? se si è buggato è indemoniata io esco macchina indemoniata calmati sei calma? possiamo ripartire? ok sei calma brava brava dove sei? io non so come si accelera vabbè eeeh ha su due ruote loff oh come ha cazzo ma io avrei una domanda vabbè come faccio a venire via? non ho idea non lo so eh torna di traprendermi non ho fatto neanche partire il tempo sono un pirla sì lo sappiamo allora torna di traprendermi andrò a cazzo ah perché sei sceso Simo? eh sì boh finiamo in mezzo dai qualcuno mi dica come cacchi si accelera questo gioco bene perché non ritorni ho qualcosa per te questo me lo guardavo ancora vengo a prenderti Simo è lui il patentato è vero e si vede saltiamo non corre più guarda ueeh su due ruote salto come maledizione come diavolo si mette mouse tastiera tastazione comandi allora ah no niente ho trovato turbo oh l'ho trovato coglione aspettami è lo stesso vuoi salire o no eh se stavi fermo ho saltato eh ho notato è lo stesso tasto del del potenziamento speciale arrivo che volendo minchia c'è anche scritto ma va è vero c'è anche scritto bisogna andare brutta e merde oh mio dio c'è avete visto come siamo sono sceso l'hai pennato wow lol lasciatelo lasciatelo così ok ah no no una cosa figa non muove non fa non fa niente guarda se si incastra così questo me lo ricordo si fa così per sistemarlo hai accoltellato si l'accoltello vola via vola letteralmente e tutto ciò ha molto senso ragazzi ragazzi già l'altro episodio abbiamo fatto un cazzo questo qui ma perdi vita possiamo fare certo che perdi vita eh già è vero ma baccia di merda ops aspetta che scendo no è mio è mio è mio dove sei vabbè ragazzi già lo scosto episodio abbiamo fatto niente questo qui possiamo fare una missione possiamo fare ancora più niente ah wow interessante sono subito sulla torreta è cazzeggia time nicchia sono serio ok guida con prudenza no basta bisogna andare da dottor la pianti è divertente sto morendo sto volando sto volando ragazzi ma capitemi io devo fare video con queste due persone con questi due individui comprendetemi ti capiamo ti capiamo non parlavo cazzatello vicino all'incrocio sulla strada verso la miniera incontrerai ah eccolo là il fraccio oh è torna da Ronisa noi abbiamo bisogno e tu devi portarglielo via sleggia un uomo malvagio e ha fatto cose terribili alla zombie di Fire fai quello che va fatto cosa devo fare rispondi Fabio oh mio dio mi ricordo una cosa cosa ti ricorda eh dopo vedrai seleziona oh mio dio Elena ha un avatar un po' strano seleziona la missione più facile facciamola va bene ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ancora sono impedito cazzo medio impegnativo impossibile no grazie allora madonna nemici travolti bisogna investire le persone andiamo a investire le persone fantastico Fabio ora che hai la patente dimentica tutto quello che ho imparato investi su di pedoni perché ho imparato qualcosa scusa tusce che cazzo è successo perché aiuto maledizione aspetta un baubau c'è uno dice inizia la scuola più seri no ancora più rincoglioniti cazzo e beh sì ma mi aspetti no così impari a uccidere i baubau era lì era cattivo plof uno è andato plof 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 che schifo io non trovo nessuno io sono andato a sti cani di livello 1 qui come cacchio sono no è storto vola poff ma che cazzo ma che merda che è mamma mia sono bloccato ah ci sta bene sono sono su di giri aiuto vabbio capiva bello sono batman sono batman ma l'hai visto babio babio che palle no ho sbagliato tasto sto morendo sto episodio non ha senso è troppo bello scusate non ha senso di esistere sto episodio ma non c'è neanche un cane simo sono qui dentro di te ecco ti plof te like a boss vedi oh dio qualcuno di gentile cosa qualcuno di gentile si si eh si si sono gentilissimo io no mi sto prendendo con fabio pronto eeeh eeeh le montagne russi ma che falle a me comincia a sparare non smette più ok vabbè che cazzo di ore sono c'è un omino che cammina lo investo io fatto eeeh che bello in questi punti abbiamo fatto una missione dai basta madonna mia ho parcheggiato ragazzi fa vedere è a risparmio di spazio wow ma la patente te la danno anche se parcheggi così fabio certo ah però te lo chiedono di parcheggiare così ah si ci vuole ci vuole un po' di skill fabio sei dentro di me cazzo se stavi così eri come così sono già livello 11 cioè facendo i cazzoni livello 11 a me va bene io quasi all'11 ma si dai potenza delle armi voglio sempre più danno ah no è un amico ti ho sfaradatissimo eh ho notato ti chiedo perdono vabbè dai ste macchine sono un meccanico funziona lol fabio domanda come cazzo ci stai dentro sto cosa si esci esci guarda esci esci è bellissimo è ridicolo tipo che tipo dovessi giocare tipo la play 3 con il joystick piccolino no 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 non vi escusare scuso sbagliato sto morendo e vabbè madonna non sono io questo ah piantate la pianta sto morendo sto morendo faccia di merda ok andiamo aspetta come si guida no aspetta devi girare col mouse è come l'rcxd di black ops che voi non avete giocato sono un coglione è vero già e anche io mi vergogno di aver giocato cioè potevo prendere vietnam di bad company no prendiamoci con lo beauty ma vaffanculo ok qui ok oh amico con la mascherina cos'è non si può respirare qui perché avete la mascherina ha fatto una puzza e la madonna quante missioni che però mi sa che è troppo tardi no dai mi sa che questo episodio tipo durerà 45 minuti ma non me ne fai niente pazienza lo caricheremo aia aia sto vedendo la missione oh non ucciderlo no mi uccidi Simo sei un coglione facciamo questa guiva ma perché devo avere ma porca questa non è cooperativa questo è un tutti contro tutti ma è difficile guilare queste cose si parecchio mi sono incastrato sul palo devi scenderti e dargli un colpo dov'è che devo andare qua ma dov'è che devo andare qua sono il chihuahua guarda che gli uccelli bisogna uccidere si gli uccelli già già ok oh oh sono oh mio quanta gente c'è basta fabio volevo prendere gli uccelli si e mi ria a me sono morto sono morto qualcuno mi aiuti e poi in questi giorni dovrebbe uscire anche Borderlands 2 e ne giochi a maluno e beh ovvio beh siamo un po' indietro e vabbè ma alla vostra domanda comprerete Borderlands 2? ma certamente a 7,50 euro versione con tutti i DLC come l'uno nei saldi ci stimo si del 2014 no seriamente non so se hai visto la stronzata che hanno fatto con Borderlands 2 no lo sai che adesso tu prendi il gioco ma non so se hai un quinto personaggio ah mi hai detto mi hai detto wow no io ho letto io ho letto che se tu prendi il gioco costa tipo fai più bici 50 euro per console 70 no tu devi prendere una cosa che costa 30 euro e hai tutti i 4 DLC inclusi quindi due calcolini 70 più 30 100 euro per un gioco minchia wow se Battlefield 3 insegna grazie a tutti per aver comprato premium spazzolini dov'essimo? dov'essimo lì che si fa i cazzi suoni non ho un rapporto aspetta dove si è? è la cooperativa meno cooperativa che abbiamo visto in vita mia un cane aspetta che mettilo sotto cos'è sto rumore? vabbè io che mi soffiavo il naso ah ok che schifo come le schifo fai anche tu no adesso non ho fatto niente c'è la polizia dietro di noi bisogna andare piano oh cazzo piano piano non guardate il gigante sulla torretta vieni con noi Simo proprio voi eh sta arrivando no sta arrivando si sparate investiamoli maledetto ploffete guarda madonna turbo effetti sonori offerti da Simo vabbè dai oh non riesco a girare c'è una cassa di potenziamenti un tipo qui un bandito killer cassa munizioni fuggita sono morto help me qualcuno mi aiuti si oh minchia ma io ero cazzo grazie cosa mi cosa oh mio dio mi sta no sono morto qualcuno mi salvi grande chi è è fabio no no fabio ti prego no maledizione che si è fottuti maledizione mamma mia capito sono morto come un pirlo 1500 dollari no io son vivo ma cos'è il respawn della apple porca puttana sta per morire sono solo ah la macchina lì sono un pirla e poi mi sa che è anche finito il tempo è finito il tempo ragazzi cosa facciamo ragazzi facciamo una strage e poi salutiamo tutti ok questo episodio durerà tre quarti di miliardi di anni sono morto perfetto è morto che simu vuoi morire anche te fabio ma no io me la sto passando parecchio bene sulla macchina ok vi raggiungo arrivo ah ci raggiunge ok dite la solita scendi scendi simu simu arrivo no si bestemmia lo sclero time e subbatte potrei fare lo sclero time anche su qui va bene ok va benissimo saranno già passati non ho idea di neanche quanto duri però io ma dove sei sono qui sono un fio dio ho perso la mia arma come ho perso la tua arma dio perdonali sta ventola no fammi staggitto ok vi salutiamo mettete mi piace iscrivetevi al canale mi servono munizioni però qual è per comprarli abbiate e vaffanculo ciao a tutti ciao ciao a tutti iscrivetevi mi piace ciao al prossimo video al prossimo video ciao oh devi dire tutto anche tu ricordati 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 rischi che sei morire morire devi morire morire ricordati che sei morire